Sono molto 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 esaltata dal libro di cui vi parlerò oggi perché è un libro che finalmente, dati alla mano, mi dà ragione per quando io dico che mi lavo prevalentemente a pezzi e non mi faccio la doccia assolutamente tutti i giorni. Il libro è Puliti di James Humbling. Il libro cerca di far capire che la nostra concezione occidentale di pulito e di igiene è assolutamente eccessiva e soprattutto estremamente dannosa. Più ci si lava, più ci si igienizza e più si rovina il microbiota della nostra pelle. Non solo il microbiota viene rovinato ma si creano anche microorganismi resistenti per cui non ci sarà più nessun igienizzante che riuscirà ad ucciderli. L'importante è lavarsi a pezzi, le ascelle, le parti intime, i piedi, il viso. Le altre parti, se stiamo tutto il giorno a casa, come nel mio caso, a lavorare, non è necessario lavarle. Si fanno più danni che benefici. La prima parte del libro racconta la storia di come siamo passati da essere degli sozzoni ad avere un adeguato concetto di igiene, ad essere fissati con un'idea del tutto astratta di pulizia, perfezione assoluta, uccisione di qualunque forma di germe. Il libro parla anche del marketing, del cosmetico e di quanto faccia effettivamente la differenza rispetto ad un prodotto che è magari uguale identico ad un altro. Parla anche della moda del probiotico e del prebiotico, arrivando a delle cose molto divertenti tipo a spray al batterio. L'igiene ha debellato un sacco di malattie nel mondo occidentale, ma l'eccesso di igiene ne sta facendo creare delle altre. Termatiti da contatto, allergie, malattie autoimmuni sono malattie in parte, ovviamente, indotte dall'eccesso di pulizia. Consigliatissimo questo libro, mi è veramente piaciuto tantissimo e sono contenta di poter continuare a lavarmi a pezzi, salvo in estate, salvo quando sudo, salvo quando faccio sport, salvo quando sono fuori tutto il giorno.